Buongiorno a tutti, oggi mostriamo una partita che ho giocato circa un anno fa, io ero 6Q e il mio avversario 4Q, partita alla pari. Allora, vediamo Sangren 6 da parte del nero. Io gioco l'approccio, va bene, lui para e qua gioco la prima mossa lenta, questa mossa non serve a niente. Il nero non vuole tenersi in angolino, vuole cercare di sviluppare un po' di influence di qua, di qua e quindi infatti gioco da un'altra parte. Io gioco qua un'altra mossa da principiante, questa mossa qua è uno Tsukenobi, l'idea qual è? L'idea è che dopo questa la variante principale avrebbe dovuto essere questa qui circa, ecco. L'idea è che, vedete, il bianco vuole prendersi un bel territorio qua nell'angolo e il nero tenersi invece un'influenza un po' al centro e poi costruire un muro. Per esempio è possibile giocare una mossa qui, giocare da altre parti, insomma non stiamo qua ad analizzarlo tanto, però questa mossa qua diciamo un po' rigida da parte del bianco, vedete che ha una brutta forma, prende anche gote, il nero può comunque sempre estendersi da questo lato e bilanciare la situazione, poi dopo può entrare un po' quando e dove vuole, può entrare qua sotto, qui minacciare la discesa, insomma ne ha. E senza tener conto che qua abbiamo lasciato una voragine grandissima, quindi da questa mossa qua, una mossa più semplice, poteva essere, scusate qui, un approccio semplicemente questo, buonanotte, dicevo il mio versario invece di giocare la mossa corretta, appunto gioca una mossa più lenta, quindi mi dà respiro. Ancora una volta però capisco che non ho giocato bene perché non ho giocato questa mossa qui. Questa mossa qua gioca in un punto in cui sia il bianco che il nero hanno un punto vitale condiviso, cioè se il nero ci gioca il bianco è costretto a fare una brutta forma, se invece ci gioca il bianco vedete che queste pedine qua cominciano un po' a soffrire e abbiamo ottenuto quasi col bianco lo stesso risultato che giocare qui, quindi primo contenuto che abbiamo imparato. Gioco qua invece, il nero approccia di qua, ancora una volta qua mi invento una mossa fantasiosa come questa, l'idea è quella di estendere qua e attaccare le pedine da sotto, semplicemente questa è una mossa più semplice, il nero avrebbe esteso così, io avrei potuto estendere come minimo qui, oppure anche approcciare da altre parti, non si sa, però comunque di sicuro questa mossa giocata in partita è un po' velleitaria. Il nero para, io imito un giosecchi quando si fa l'approccio alto alla pedina 3-4 nell'angolo, giochiamo così, ecco a questo punto qua una mossa più coerente sarebbe stata questa, cioè parare il taglio del nero e contemporaneamente appunto ancora una volta devastare tutto questo lato del nero, questa possibile estensione, solo che invece io gioco questa mossa qua che è una mossa un po' lenta, insomma sì, certo è un approccio però non è la mossa più utile in questa posizione, il nero gioca giustamente una pinza per valorizzare questa posizione che ha acquisito sulla sinistra, il nero entra nell'angolo, il bianco entra nell'angolo, il giosecchi, e ancora una volta l'ho imparato a memoria e non l'avevo capito. In questa posizione io gioco una mossa di questo genere che è terrificante, una mossa come questa fa capire subito che il bianco non ha chiaro quali sono le priorità, il bianco può giocare questa mossa qui ma solo dopo chi ha giocato ad esempio questa mossa qua, questa mossa qua vedremo para la minaccia seria che il nero sta facendo, minaccia di conquistare tutto questo lato del nero che non è roba da poco perché se il nero gioca qui comincia a isolarsi un po' troppo e over concentrarsi, mentre se non lo faci gioca il bianco e insomma questo potenziale del nero va un po' a farsi friggere. Se però non vedi sta mossa qua devi almeno vedere quella per cercare di parare almeno l'entrata qua sotto, il nero chiaramente certo minaccia di avere un buon potenziale in questa zona ma la scacchiera è un po' aperta, c'è tutto il tempo per invadere. Dicevo gioco questo, il mio avversario gioca una mossa lenta che mi darebbe modo di giocare ancora con una volta come sopra, ma naturalmente il mio piano era stabilire un gruppo qui dentro anche se debole per cercare di togliere il potenziale. Vedete che ci riesco grosso modo, ho creato almeno un occhio qui, tuttavia in questa posizione vedete che il nero poteva giocare anche già questa per mettere in crisi un po' il mio gruppo, però lui decide di giocare da questa parte e mi permette un po' di creare una situazione più stabile. A questo punto insomma il bianco il suo piano l'ha messo a frutto, bisogna vedere però cosa inserbo il nero, tipo questa mossa qua, io a questo punto qua devo bloccare e questa mossa mi lascia poca scelta, se non chiudo qua ci gioca il nero e perdo l'angolo e quindi non ho molta scelta, devo chiudere, imprende, stavolta vedete tutto questo lato qua è occupato dal nero, cosa deve fare adesso il bianco? Beh deve cercare di invadere, vedete, per cercare di recuperare un po' il terreno, la mossa è buona perché vedete che se pari da sopra, faccio la wedge e entrambe le scale funzionano, questa è la prima scala che viene minacciata, se tu provi a pararla vedi che c'è questa mossa e naturalmente ti prendi la scala dall'altra parte, quindi il nero gioca questa, io scappo verso il centro, contemporaneamente vedete minaccio queste due perine che sono un po' sospese adesso, il nero ripropone la minaccia sulle mie, rinforza queste e qui comincio a giocare una mossa leggera che mi fa capire che il bianco comincia già a sviluppare qualche idea di sabacchi e di stabilirsi in modo leggero nella posizione del nero, il nero gioca una mossa lenta ancora una volta che mi permetterebbe di giocare una mossa tipo questa e quindi mangiare ancora una volta come sopra il territorio del nero invece continuo col mio piano intrapreso all'inizio, solo che questa mossa evidenzia la mancanza di seri intenzioni da parte del bianco, che avrebbe comunque ancora la possibilità di giocare una mossa di questo genere e quindi giocare per attaccare veramente queste che sono comunque un po' in crisi adesso e invece io insisto nel giocare da questa parte, una mossa lenta e pesante che non serve assolutamente a niente, il nero gioca un po' risente, vedete qua mi mangia la forma che volevo fare io, il tavolo alto e questo gruppo qua è debole che comunque riesce a salvarsi pur facendo cattiva forma, vedete questa qua non si poteva giocare questa che forse era un po' meglio però vabbè il nero cerca di raggirarmi e finalmente vedete entra qua sotto, queste due pedine sono in crisi, devono salvarsi nell'angolo e il nero però vedete che ha occupato completamente la parte sotto del bianco, io cerco di salvarmi ecco qui il nero perde un po' la concentrazione e minaccia di entrare, io chiudo e qua avrei potuto ignorare questa mossa sembrava assente perché sembrava tagliare in questa posizione invece potevo giocare mille altre mosse una mossa come questa ad esempio che connette questo gruppo e questo gruppo creando un po' di influenza centrale sarebbe stato quasi sufficiente a pareggiare, male che vada anche una roba di questo genere o magari una roba di questo genere giocando un po' per attaccare questo gruppo che comunque non è ancora completamente salvo tenendo conto che il nero può essere tagliato in due da questo lato invece io mi difendo e prendo un gote pazzesco e a questo punto il nero comincia a giocare vedete bene qui i due gruppi sono sconnessi, queste sono due problematiche da gestire dopo una sola mossa del nero il bianco cerca di attaccarsi disperatamente ecco cerco di fare un occhio ma in realtà non ce n'è neanche uno perché il nero potrebbe giocare in questa posizione o qui sotto come ha fatto e vedete che ecco qui se avessi giocato un po' più sotto l'occhio sarebbe andato a farsi benedire anche qua e quindi questa situazione mi dà un po' di respiro trovo questo taglio, la minaccia è che se tipo tu non giochi una roba di questo genere qua le strade pd ne sono morte e vinco io quindi il nero gioca in questo modo per connettersi con la forma del tavolo e quindi riproporre la minaccia io provo a raggirare un'altra volta questa perina cercando di minacciare questa mossa la gioco a lui e finalmente qua stavo per abbandonare perché praticamente non riuscivo a trovare un modo per salvare il gruppo del bianco però poi dopo scava scava riesco a trovare un'idea cioè prima estendo qui il mio avversario sbaglia perché doveva rinforzare questa zona qua lui invece vuole rinforzarsi da questa zona pensando di essere attaccato qui e finalmente ecco dicevo che l'ultima possibilità rimane quella di tagliare e sfruttare tutti i difetti della posizione del nero il nero deve giocare così però questa mossa lo inguaia perché ci sono 4 libertà e 3 qui non un bel biglietto da vista per il nero allora vedete che il nero finalmente si accorge che questa posizione per lui è andata e allora adesso bisogna fare un po' di ragionamenti una mossa semplice qua sarebbe stata A una mossa A è una mossa da imparare anche questa la mossa A ha il pregio di dopo questo e questo di capire che se tu hai due gruppi deboli e li connetti diventano un gruppo unico ma forte quindi il modo più economico per connettere i gruppi è quello appunto di fare questa mossa qua tuttavia che se anche in questa posizione qua non ne vedi altre questo gruppo qua del nero che è debole deve essere sfruttato e quindi mossa come B, C, O, D possono aiutare ad attaccare il nero che non è che muore però almeno riesce a essere messo in difficoltà muovo così invece io cercando di far forma e cercando di far finta di salvare queste pietre il nero cerca di minacciarmi nell'angolo poi dopo fa un po' di mosse per cercare di entrare ecco finalmente arriviamo al punto cruciale, l'ultimo ostacolo ancora una volta vedete che il punto vitale del bianco è questo cioè io avrei dovuto estendere in questa posizione e poi la partita insomma si gioca, continua invece io voglio giocare un doppio sente quando in realtà semplicemente il nero naturalmente poteva giocare questa mossa qui a quel punto lì questo gruppo qua è in serie di difficoltà qua perdo l'ultimo un altro occhio sarà più difficile salvare questo gruppo del bianco e metti che voglio continuare con il sente vabbè non c'è problema il nero chiude qua questo gruppo è perso così come la mia partita anche se lui riesce a prendersi tutto qua sotto non c'è problema il bianco è comunque condannato vedete che circonda tutto questo territorio qua praticamente la partita è andata una mossa invece nella partita lui difese in questo modo e poi dopo riuscì a giocare questa e perdere di pochissimi punti un finale molto difficile questo punto è quello che abbiamo imparato su questa posizione ci sono numerosi spunti sia per il bianco che per il nero abbiamo visto solo quelli più macroscopici naturalmente sappiamo che come ho detto all'inizio c'è un errore ci sarebbe un errore a mossa essendo comunque ancora giocatori Q però comunque almeno abbiamo evitato quelli principali imparando a difenderci nelle situazioni più tipiche delle aperture che giochiamo al nostro livello arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti